Roberto Giovannini, capo redattore della stampa, lo facciamo salire sul palco e invito sul palco Luca Torchia, responsabile comunicazione esterna, sostenibilità del gruppo Terna. Complimenti! Roberto Giovannini ha sempre seguito con grande entusiasmo i temi legati alla sostenibilità e all'energia. Bravo Roberto! Complimenti! Questo è il premio. E di qua, dai nostri fotografi. Complimenti ancora! È Roberto Giovannini, capo redattore della stampa e direttore di Tutto Green, l'inserto mensile del quotidiano torinese dedicato al mondo della sostenibilità, il vincitore della prima edizione del premio Terna, assegnato nell'ambito della 39esima edizione del premio Ischia Internazionale di giornalismo. Il premio Terna è stato ideato per valorizzare e per incoraggiare l'attività giornalistica dedicata ai temi della sostenibilità. Il piano strategico quinquennale presentato lo scorso marzo dalla società, infatti, fa della sostenibilità una leva strategica di creazione di valore per tutti i suoi stakeholder. Come ha spiegato Luca Torchia, responsabile comunicazione esterna e sostenibilità di Terna. Abbiamo ritenuto questa la cornice ideale per lanciare un valore. Il valore della sostenibilità che per Terna costituisce l'elemento dirimente di generazione di valore sul proprio piano strategico. Terna, ricordo, gestisce la rete di trasmissione nazionale, la rete elettrica di trasmissione ad alta tensione sull'intero territorio nazionale, insiste quindi sui territori e fa della sostenibilità l'elemento fondante per poter condividere con i territori i propri investimenti. Investimenti che costituiscono un valore per i territori, per i cittadini e per il sistema paese. Ed è per questo che la sostenibilità è una leva importantissima di generazione di valore. L'amico Roberto Giovannini della Stampa, il direttore responsabile dell'inserto Tutto Green della Stampa, è riuscito in maniera molto efficace a creare un veicolo divulgativo dei principali temi di sostenibilità sul paese. Per noi diventa fondamentale fare educazione e divulgazione sulla sostenibilità proprio perché, come dicevo prima, è un elemento di generazione del valore. Bisogna far conoscere e sensibilizzare i nostri concittadini, i giovani e tutti coloro che possano entrare in contatto con queste importanti tematiche sulla sensibilità e sulla significatività di questi valori. Per questo Roberto ha fatto un ottimo lavoro. Roberto Giovannini ha seguito attraverso le pagine del suo giornale i temi legati alla sostenibilità ambientale, industriale e all'energia, progettando e ideando Tutto Green, dei temi che, ha spiegato, ancora oggi sono poco trattati. Troppo poco, troppo poco in modo insufficiente. Io penso che i lettori, i cittadini, le persone sono molto più interessati di quello che pensino forse certi direttori perché è un tema che appassiona direttamente perché riguarda la vita quotidiana delle persone. Soprattutto i più giovani oggi sanno benissimo che comportamenti sbagliati, tipo buttare rifiuti o danneggiare quello che è l'ambiente di tutti quanti, è pericoloso e dannoso. Credo profondamente nel giornalismo ambientale, nell'informazione su queste tematiche. È importante che un giornale come La Stampa, già da cinque anni, abbia deciso di puntare su un progetto come Tutto Green, che è un magazine cartaceo mensile e un sito digitale che può essere consultato da tutti liberamente e dà questo tipo di informazioni. Credo anche che sia merito eterna, un profondo ringraziamento per aver dato questo riconoscimento a me, che è un riconoscimento al lavoro mio, ma al lavoro del giornale, di tutti i collaboratori e giornalisti che quotidianamente si impegnano in La Stampa Tutto Green.